Essere sicuri con il gas dipende anche da te. Fai controllare periodicamente la tua caldaia e lo scarico dei prodotti della combustione fumi del tuo impianto a gas da personale abilitato. Non lasciare mai un fornello acceso o incustodito e chiudi il rubinetto principale del gas quando non utilizzi il gas. Fai controllare il tubo di gomma di collegamento con il piano cottura. Attenzione, va sostituito ogni 5 anni. E se senti odore di gas, chiama subito il nostro servizio di pronto intervento al numero verde reperibile sul sito estraspa.it. è una campagna sulla sicurezza promossa da Estra.